Ecco la nuova tratta appoggio reale Stadera della linea tramviaria municipio Pietrarsa Stadera. La nuova sede tramviaria a doppio binario è stata inaugurata stamattina e da domani entrerà al regime, prolungando la rete esistente. Via della Stadera è un importante asse di collegamento con la periferia orientale e di comuni limitrofi e pertanto la nuova linea favorirà l'interscambio modale, incrociando la stazione di piazza Garibaldi, la circunvesuviana, via Marina ed infine arrivando a piazza municipio anche la stazione marittima ed il molo Beverello e con una frequenza di corse di 10 minuti promette anche risultati consistenti nel decongestionamento del traffico veicolare. La tratta è costata circa 10 milioni di euro, compresa la risistemazione del tratto stradale, la riconfigurazione dei marciapiedi, la razionalizzazione degli impianti e dei sottoservizi e l'ottimizzazione del sistema della sosta, traducendosi quindi in un intervento di riqualificazione urbanistica dell'intera area. Inoltre su questa tratta è partita l'importante sperimentazione di un nuovo tram senza fili, che anziché ricevere l'alimentazione col metodo aereo tradizionale, sfrutterà il sistema cosiddetto a pettine a terra, quello che vedete dalle nostre immagini. Una realizzazione che giunge in un momento in cui il settore del trasporto locale vive un fortissimo disagio a causa dei tagli che dal 2009 ad oggi, fra governo e regione, sono arrivati al 40% e dalle difficoltà nell'assegnazione del fondo previsto dal decreto 174, il cosiddetto salvacomuni. Tutti elementi che stanno obbligando il comune in queste ore ad intervenire con fondi straordinari per andare incontro all'emergenza dei trasporti.